Si è svolto ieri, come previsto, un vertice in prefettura sulla complessa vicenda che riguarda l'imminente chiusura del punto nascita dell'ospedale di Mussomeli. Va mantenuto esattamente come a Bronte, lo Stato si svegli. Esordiscono così in un documento i rappresentanti di CGL e Cisle Will della provincia di Caltanissetta, congiuntamente alle categorie ed RSU della funzione pubblica che esprimono un giudizio positivo in relazione all'incontro. CGL e Cisle Will insieme ai sindaci dei comuni del Vallone della provincia hanno sottoscritto un documento inviato alla Presidenza della Regione Siciliana, all'Assessorato alla Sanità, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Salute, evidenziando l'assurdità contenuta nella normativa nazionale e recepita dalla Regione Siciliana, che di fatto non tiene conto dei contesti territoriali, tanto che Mussomeli, pur essendo comune montano, è marginato infrastrutturalmente. Centro sanitario di interesse di decine di piccoli comuni di tre province, Caltanissetta, Grigente e Palermo, che di fatto storicamente hanno rappresentato l'utenza dell'ospedale, spiegano Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Vincenzo Mudaro. Il Direttore Generale ha dichiarato che il punto nascita dal 1 gennaio non è chiuso, ma è sospeso in attesa dell'evoluzione normativa, ma per renderlo sicuro è necessaria un'aderoga attraverso un decreto assessoriale ed una messa in sicurezza del costo di quasi 3 milioni di euro. È evidente che l'Asp da sola non sarà in grado e necessita di un investimento da parte della Regione, concludono i sindacalisti. CGL e Cisle Will hanno così annunciato la loro partecipazione alla manifestazione indetta per giovedì a Mussomeli.